Per la procura nissena vanno condannati all'ergastolo tutti e quattro gli imputati per l'omicidio di Giuseppe Fiandaca, ucciso a colpi di fucile il 13 febbraio 2018 nelle campagne intorno a Riesi. Il carcere a vite è stato chiesto dal PM Davide Spina per Pino Bartoli, 35 anni, Michael Stephen Castorina, 33 anni, Gaetano Di Martino, 39 anni e Giuseppe Antonio Santino, detto Lucignolo, 34 anni, adesso imputati davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'omicidio vi sarebbero dei contrasti per questioni di droga, ma nel corso del dibattimento sono state esplorate anche altre piste, compresa quella passionale. Alle richieste di condanna del PM Spina si sono associati i legali di parte civile della famiglia Fiandaca, gli avvocati Giovanni Pace e Walter Tesauro, che hanno sollecitato il pagamento di una professionale oltre al risarcimento dei danni. Dalla prossima udienza prenderanno in via le ringhe degli avvocati difensori Vincenzo Vitello, Adriana Vella, Michele Ambra, Giovanni Maggio, Angelo Asaro e Ivan Trupia.